buongiorno a tutti sono alessandro grampo uno dei cofondatori di ex agro urban farming una start up milanese che sviluppa tecnologie per l'agricoltura verticale indoor quello che vedete oggi è il living farming tree il primo prodotto che abbiamo sviluppato in realtà si tratta di un di una piattaforma di indoor farming cioè immaginatevi un lego con diversi blocchi diversi componenti che poi possono essere assemblati in maniera diversa questa è una configurazione assemblata apposta a questa forma quindi una forma d'albero che riprende il concetto di natura una forma aperta fatta proprio per stimolare l'interazione tra l'uomo e la natura viene offerta in ufficio in hotel per incrementare la qualità degli ambienti ci sono diverse esperienze che possono essere disegnate dal semplice monitoraggio della qualità dell'area per implementare il wellness dal incremento di comunicazione tra le varie persone che poi interagiscono con questa macchina e tutta un'altra serie di lavori a livello di psicologia per incrementare la parte di benestare delle persone in questo momento quello che vedete qua è basilico cannella basilico greco di base si coltivano in questo momento erbe officinali o erbe aromatiche quindi erbe che possono essere raccolte direttamente in questo spazio e poi essere utilizzate immediatamente una tisana un break uno snack quello che si preferisce non è ancora presente per il pubblico quindi diciamo per il consumatore in casa ma arriverà sicuramente